Musica Dal sole della Sardegna alle atmosfere nordiche della Norvegia in cui ha trovato la consacrazione come cantante rock del gruppo Tristania Un talento sbocciato a beati che ora si confronta col panorama rock internazionale Il video Year of the Red ha raggiunto oltre un milione e mezzo di visualizzazioni Ariangela De Murtas ieri è tornata a Nuoro invitata da Musique per incontrare i suoi tanti fans nuoresi e offrire un saggio della sua bravura Una voce potente che si esalta nei concerti ma in grado di dare grandi emozioni anche in versione acustica Come è successo ieri quando accompagnata al musicista sassarese Francesco Marras ha deliziato il pubblico proponendo alcuni brani del repertorio di Tristania ma anche i classici della musica rock Dopo il nostro tour europeo con i Tristania sono tornata in Sardegna, mi sto esibendo diversi posti e con Francesco Marras chitarrista Stiamo lavorando a un nuovo progetto, c'è un nuovo album e quest'anno come sapete anche il disco dei Tristania Darkest White Vi proponiamo un po' di musica dal vivo qua in Sardegna con concertino acustico e spero di vedervi tutti con noi In serata invece una grande performance nel locale Lattana del Lupolo dove ha intrattenuto i tanti appassionati della musica rock con un concerto di grande impatto emotivo When I see lightning, you know it always brings me down